Per noi corrisponde una vittoria perché le ragazze di settimana hanno fatto un grande lavoro, sono felice per loro perché hanno messo tutto in campo quello che avevano e gli ho detto dopo una settimana di allenamento come ho visto non possiamo non fare risultato oggi. Le ragazze sono entrate con un piglio importante, siamo andate in vantaggio, siamo andate in svantaggio, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo pareggiato e poi al secondo tempo diciamo che abbiamo sofferto poco, è stata una partita un po' più equilibrata anche se il Milan ha una grande qualità e quindi per noi questo è un pareggio che corrisponde a una vittoria. Noi conosciamo i nostri limiti, dobbiamo cercare di limarli settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, le ragazze come ho detto prima stanno crescendo giorno dopo giorno, ho 23 ragazze in rosa e tutte potrebbero giocare titolare, infatti la dedica speciale è quella che sono andata in tribuna e che hanno tifato per le compagne che sono scese in campo e per quelle che sono andate in panchina. Quindi noi dobbiamo lavorare sul nostro percorso che è quello di migliorarci giorno dopo giorno, l'obiettivo primario è quello di riuscire a salvarci il prima possibile se poi in futuro avanzerà del tempo avremo modo anche di divertirci però concentrate per la salvezza prima di tutto. Sì, le più anziane tra virgolette hanno accolto molto bene le giovani soprattutto quelle che arrivavano da Brescia che erano con me, lo hanno fatto veramente bene e come ho detto prima in campo si aiutano come ho sentito anche l'intervista di Gaga, si aiutano, ci mettono l'anima, ci mettono il cuore, la sera qualche volta escono a mangiare tutte insieme e questo è veramente bello perché si sta creando qualcosa di fantastico, adesso dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché abbiamo fatto tanto, è vero, ma purtroppo non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo ancora tanta strada da fare e il cammino è ancora lungo e io sono molto orgoglioso di allenare queste ragazze. Dai, diciamo la stagione è partita bene per la squadra, è partita bene diciamo anche per me, comunque oggi è stata una buona giornata, una buona prestazione e abbiamo ottenuto anche punti che era il nostro risultato nel senso che volevamo fare una buona prestazione e abbiamo portato a casa dei punti contro una squadra sulla carta molto forte per cui soddisfatte finora. Diciamo il primo, diciamo fortunato, il secondo l'ho cercato e è venuto quindi è andata bene per stavolta, giochiamo partita dopo partita e quello che portiamo a casa bene e quello che non portiamo a casa è colpa nostra. Abbiamo sofferto tanto, il Milan è una buona squadra, poi siamo andate sotto e quindi recuperare il risultato è una buona cosa, soprattutto sapendo che il Milan aveva vinto tutto finora. Sì, perché la squadra ci ha messo il cuore e poi contro squadre di livello penso sia normale soffrire un pochino, però noi siamo brave a compattarci e nei momenti di difficoltà a sostenerci e a difendere insieme. Quando c'è da soffrire, soffriamo. Noi prendiamo partita dopo partita perché ci ricordiamo da dove arriviamo, l'anno scorso non è stato facile per questa società, quindi piano piano stiamo lavorando, ci mettiamo il cuore e penso che se continuiamo così possiamo anche fare bene.